Buonasera e benvenuti in un nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare il like per attivare la campanellina. Entro il fine settimana arriverà un netto peggioramento, infatti già nella giornata di giovedì si noterà un certo aumento della nuvolosità su alcune delle nostre regioni più occidentali. Ma appunto sarà dalla giornata di Vitardico il cambiamento si avvertirà con maggior enfasi. Il vortice piloterà una perturbazione che spingerà la sua parte più avanzata verso Sardegna, regioni tirreniche, centro-settentrionali e parte del nord-ovest. Con nuvolosità che si andrà ad intensificare e ci saranno anche le prime biogge sparse. Però nel corso del weekend il tempo dovrebbe peggiorare ulteriormente con la continua avanzata al vortice mediterraneo verso l'Italia. Il maltempo si andrà quindi ad intensificare su gran parte delle nostre regioni occidentali. E al sud. Con particolare coinvolgimento delle due isole maggiori dove ho atteso anche qualche temporale. Tra sabato e domenica ci sarà qualche fenomeno che interesserà appunto parte della Valpadana e delle regioni tirreniche. Con neve che cadrà anche sulle Alpi occidentali. Attenzione perché i fenomeni più importanti con più probabilità di pioggia ci saranno nelle regioni meridionali perché appunto sono più vicine alla traiettoria del vortice. Comunque intorno al minimo di pressionario saranno da segnalare un forza di venti con prevalente rotazione ciclonica. La maggior parte delle idee nevicate avverranno soprattutto sulle Alpi marittime. Per ora è tutto ci vediamo nel prossimo appuntamento a meteo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare il like per attivare la campanellina per essere sempre aggiornati.